Giovedì 24 novembre, Santeflora e Marta di Cordova. È il 328esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 37 al termine. Il sole sorge alle 7.21 e tramonta alle 16.33. La luna si leva alle 8.02 e tramonta alle 16.42. I soldati della Quarta Crociata, per ripianare in parte il debito che avevano con i veneziani per il loro trasporto in Terra Santa, aiutano il doge Enrico Dandolo a riconquistare Zara, che il re d'Ungheria aveva sottratto con la forza a Venezia. Le previsioni per domani. Alternanza di nuvole e rasserenamenti, senza precipitazioni. Sulla pianura, nella prima metà di giornata, nebbie locali di notte e in dissolvimento di mattina. Temperature senza variazioni di rilievo fino al pomeriggio e in aumento di sera.